Sono circa 5.000 gli ucraini in Umbria e tra di loro cresce di ora in ora l'apprensione e la preoccupazione. Nella notte è iniziata l'invasione russa dopo il riconoscimento da parte di Mosca delle repubbliche indipendenti del Donbass. Esplosioni, morti e feriti in almeno 7 città dell'Ucraina. Si combatte a 30 chilometri da Kiev, dove il secondo aeroporto della capitale sarebbe già nelle mani dei russi. Il pretesto è stato dato dalla richiesta d'aiuto dei separatisti del Donbass a Mosca. L'annuncio dell'attacco è arrivato da Vladimir Putin prima dell'alba con un messaggio registrato che ha di fatto annunciato l'inizio delle operazioni militari. La comunità ucraina in Umbria è composta quasi esclusivamente da donne che già da alcuni giorni si ritrovano presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Perugia per pregare. Molte di loro hanno lasciato l'Ucraina per venire a lavorare qui in Italia e raccontano che i mariti hanno già imbracciato le armi così come i figli e i nipoti. Nel frattempo a Kiev suonano nuove sirene d'allarme per possibili bombardamenti con la popolazione che è stata invitata a recarsi nei rifugi antiaerei e il sindaco Vitali Klitschko ha annunciato il coprifuoco. Si contano già a decine le vittime dell'attacco. Sono 22 i morti provocati dalla raid aereo russo di stamattina su una base militare nella provincia di Odessa.